un altro appuntamento che si materializza oggi sia in radio in podcast e in video con Jutz con gli ospiti che puntualmente il conduttore di questi spazi invita qui in radio a noi ci fa molto piacere Lorenzo Benassi Roversi ben arrivato anche oggi su Jutz grazie grazie Matteo grazie a te grazie a Radio Fly che ci permette sempre di rendere queste testimonianze sulle priorità sui valori anche che emergono da questo percorso di consultazione che va avanti dal 2021 lo ricordo noi al forum Jutz abbiamo fatto la prima tappa che era l'estate del 2021 e da lì davvero non ci siamo più fermati abbiamo visto anche che la regione ha cominciato a prendere i primi impegni proprio impegni come dire che arrivano in giunta e che poi si trasformano in norme si trasformano in progetti insomma a dare concretezza a queste istanze quindi volevamo come CIS assolutamente esserne parte io questo lo ripeto perché è importante ricordare che anche noi siamo un'organizzazione che tiene a dare una risposta a queste a queste istanze allora la tappa al distretto ceramico precisamente ci siamo trovati a Formigine la settimana scorsa è stata davvero l'occasione per fare il punto su un tema in particolare la macro area era quella definita dalla regione Feirer quindi ha a che fare con l'equità con l'uguaglianza di opportunità il focus molto forte sull'aggregazione giovanile abbiamo avuto quello che davvero è stato un caso scuola su cui ci siamo confrontati a Formigine c'è questo edificio molto bello nuovo la casa del custode restaurata e il progetto è proprio quello di animarlo di far nascere aggregazione giovanile dal basso che possa davvero strutturare delle relazioni al di là appunto delle relazioni da remoto che sempre più spesso siamo abituati ad avere delle relazioni vere non social ma sociali allora a partire da questo noi abbiamo chiamato come al solito i nostri testimoni i nostri ospiti c'era una forte presenza degli enti locali ed è stato davvero un fattore virtuoso per la riuscita della tappa ma noi ci siamo concentrati e vogliamo partire soprattutto da un metodo di coinvolgimento giovanile quello dell'arte abbiamo qui non a caso Stefano Laffi che ci ha raccontato la mostra che ha realizzato insieme ai ragazzi delle scuole allora Stefano io ti prego di raccontarci che cos'è stata questa mostra e i suoi elementi di valore proprio anche nell'accompagnamento dei giovani ad esprimersi attraverso l'arte sì buongiorno a tutti e a tutti la mostra si chiama La macchina del tempo passato presente e futuro nelle vite adolescenti perché l'idea è quella di provare a raccontare il loro punto di vista sul mondo a partire da racconti molto personali sostanzialmente sono stati coinvolti quasi 400 ragazzi e ragazzi dei jet i jet sono dei centri giovani degli spazi compiti frequentati soprattutto da ragazze e ragazze delle medie dei primi anni delle superiori quindi parliamo di una fascia d'età che va dagli 11 ai 16 anni più o meno e l'operazione che ho condotto assieme a Silvia Bertoncelli del distretto ceramico è stata quella di formare gli operatori e quindi gli educatori e le educatrici di questi jet per raccogliere dei reperti che i ragazzi e le ragazze stesse hanno portato per raccontare se stessi o meglio il proprio passato attraverso che cosa degli oggetti degli oggetti simbolici della loro vita della loro esistenza attraverso delle immagini hanno provato a raccontare le emozioni del presente quindi abbiamo provato a costruire prima una sorta di enciclopedia delle emozioni più forti che loro sentono oggi nella loro vita immaginiamo cosa sono stati questi ultimi due anni nella vita di ragazzi e ragazze stravolti sconvolti da quello che è successo a tutti noi ma nelle loro vite in modo particolare per la perdita della possibilità di andare a scuola di uscire di fare sport e tante altre cose e poi abbiamo affrontato il futuro attraverso il dispositivo più potente che abbiamo per immaginare che non sono le foto perché del futuro non ci sono le foto non ci sono gli oggetti quindi non è come per il passato abbiamo le parole per abitare il futuro e allora abbiamo costruito un gioco che si chiama Future Game in cui i ragazzi e ragazze con cui hanno giocato nei loro centri per raccontare le paure i progetti le speranze i timori di altri eventi caotici che possono accadere delle carte che compilate sul retro sono diventate i dispositivi della mostra per il passato quindi c'erano sostanzialmente che cosa c'erano dei cassetti che abbiamo allestito come spazi espositivi messi in verticale appesi e divisi in comparti per ospitare diversi oggetti e ci siamo ispirati a un grandissimo artista surrealista che si chiama Joseph Corner che è new yorkese che espone anche al Guggenheim in Venezia ma espone in tutto il mondo che aveva questa passione della raccolta degli oggetti che metteva in questi strani espositori noi abbiamo usato dei cassetti li abbiamo ricoperti li abbiamo allestiti grazie al lavoro prezioso degli operatori che hanno costruito proprio gli espositori con i ragazzi c'erano gli oggetti le diascalie le foto che abbiamo messo in cornice apposta per rappresentare tutto l'universo in qualche modo delle emozioni che i ragazzi condividevano e poi appunto le parole per abitare il futuro perché abbiamo fatto queste operazioni qui perché da ragazze e da ragazze dobbiamo stare molto attenti a costruire un linguaggio e un modo per raccontarci in prima persona prima di avere le parole per il mondo dobbiamo avere le parole per dire di noi stessi questo è molto importante perché con quelle parole riusciamo in qualche modo ad affermarci ad avere un punto di vista a distinguerci dagli altri anche dai nostri genitori dagli adulti avere una nostra originalità di pensiero se non abbiamo la capacità di esprimere questa cosa qui cioè il nostro mondo interiore alle nostre idee sul mondo dopo facciamo fatica ad abitare il mondo a diventare in qualche modo cittadini consapevoli quindi abbiamo pensato che la cosa più importante e più preziosa fosse riuscire a dare a loro la possibilità di raccontarsi in prima persona di esprimersi di rappresentarsi anche in uno spazio espositivo che era costruito allestito letteralmente come una mostra e anche per dare valore alle loro vite già parlando di ragazzi di 11 anni 12 anni 13 anni che spesso sono in difficoltà a scuola che magari hanno qualche difficoltà in famiglia ecco avere una mostra che raccontasse le loro vite e fosse vista e visitata dagli adulti con un'attenzione che è quella che si ha per le mostre d'arte quindi di fatto guardando e silenziosamente osservando o leggendo le didascalie ecco questo era anche un modo per regalare a loro visibilità che si fa fatica avere a quell'età quando gli adulti un po' distrattamente ti osservano magari non pensano le cose profonde che in realtà la mostra restituisce perché quelle didascalie e quegli oggetti hanno in realtà regalano delle emozioni fortissime lo sa chi ha visto la mostra e lo sa appunto oggetti molto semplici che però raccontano un mondo perché volevamo anche questo che le persone capissero che a quell'età a 12 anni a 13 anni hai già dei ricordi molto forti vi do solo un esempio e poi chiudo quando abbiamo lavorato con questi ragazzi nella raccolta dei materiali del passato qualcuno ci ha detto eh io non li ho più gli oggetti che per me contano perché? perché aveva vissuto uno sgombero perché aveva già vissuto un'emigrazione e quindi vuol dire che tu a 12 anni 13 anni hai già delle ferite profonde e hai già perso dei pezzi importanti della tua vita da adulti non ci rendiamo conto che succede questo anche a quell'età non bisogna aspettare di diventare più grandi per potersi dire qualche modo al centro come dire delle vite più tragiche o più faticose già a 12 13 anni hai delle ferite aperte e basta una cosa così ecco grazie Stefano io trovo davvero interessante questa intuizione di partire dai ragazzi perché molto spesso poi come anche tu dicevi eh si parte dagli adulti da quello che gli adulti vorrebbero dai ragazzi da quello che gli adulti si sentono in diritto di eh di comunicare di imporre di cercare di trasmettere invece qui c'è un lavoro maieutico per cui si parte da loro dalla loro emotività ed è davvero una mostra emozionante io consiglio in particolare i colleghi della CISL di Modena come come Aziz che è qui eh con noi connesso eh di spargere la voce di questa mostra almeno sappiamo che è itinerante che si sposterà per ora finché a Formigine vale la pena soprattutto per noi che abbiamo qualche difficoltà anche a raggiungere quel target ecco quello dei giovani quindi Aziz io ti chiedo qual è stata l'esperienza per te eh della tappa eh di Formigine del distretto ceramico da sindacalista tanti stimoli anche per noi allora buongiorno a Lorenzo buongiorno a tutti ed è sempre un piacere ascoltare Stefano lo devo dire sinceramente e onestamente ho fatto i complimenti a lui allo staff al gruppo di lavoro anche durante la presentazione lo scorso 28 perché quando prima ho parlato anche dei jet io stesso quando sono arrivato in Italia ho fatto i jet i gruppi almeno qui a Reggio Emilia venivano chiamati i gruppi educativi territoriali sono stati veramente un forte indicatore diciamo di cosa fare come affrontare anche le varie difficoltà e quindi ascoltarlo mi ha fatto ritornare a rivivere appunto quelle quelle esperienze mi trovo molto d'accordo e sposo in pieno quello che è anche qui ma non solo anche lo scorso 28 ha ha sottolineato ovvero del patrimonio lessicale che i ragazzi e le ragazze devono avere per affrontare appunto le varie sfide e in questo io ci ho tenuto anche insieme a te Lorenzo lo scorso 28 a marcare una cosa molto importante ovvero il sindacato oggi deve essere presente e attivo anche in questi luoghi anche in queste discussioni anche in questi confronti e come ho detto lo scorso 28 e come ho avuto anche il piacere di confrontarmi con dopo la tappa del 28 con la segretaria papaleo Rosa Maria che ci tiene molto vogliamo oltre a quelle che possono essere le azioni rivendicative i contratti gli accordi i presidi scioperi tutele anche provare a fare la nostra parte rappresentare delle istanze e a capire anche se davvero possiamo dare un nostro contributo anche con le ragazze e ragazze che non sono solo il futuro diciamo del nostro contesto socioculturale e sociale ma sono anche il presente e un sindacato non può non fare i conti anche con con queste sfide quindi la mostra io l'ho già iniziato a spargere un po' anche all'interno della Cisimia Centrale e l'ho chiesto a Stefano lì in persona lo chiedo adesso e lo faremo anche sarebbe bello anche fare dei momenti di confronto di incontro anche con la nostra terza generazione che sono i nostri pensionati perché secondo me verrebbe fuori anche una cosa molto bella cioè quell'incontro quel confronto quella dialettica quello scambio e questo permetterebbe anche ai nostri come dire pensionati di potersi anche esprimere per poter magari rivivere anche alcune alcune storie o alcune come dire momenti permette ai ragazzi e alle ragazze anche di confrontarsi con una storia che è ancora viva quindi per quanto riguarda la Cisi in questo ci sta provando ci sta mettendo tutto il suo come dire le sue energie abbiamo molto da imparare questo dobbiamo subito dirlo e come ho detto insieme anche a te il 28 il nostro deve essere in questa fase un ascolto attivo non possiamo arrivare con delle ricette già preconfezionate anche perché chi ha delle ricette preconfezionate dei modelli già pronti senza messa in discussione senza neanche ascoltare diciamo le ragazze e i ragazzi rischia secondo me anche di e ho finito di fare un po' quello che Gandhi in altre istanze ha detto chi fa qualcosa per me senza di me è come se la facesse contro di me scusate queste parole un po' confusionali ma per rendere anche l'idea e il pensiero quindi ci tengo molto a portare la Cisi mia centrale in queste istanze ho partecipato alle diverse tappe e la cosa che ho visto sia correggimi Lorenzo in questo perché hai partecipato anche assieme a me sia a Bologna sia a Reggio Miglia perché poi nel distretto ceramico il 28 eravamo tra virgolette tra gli attori sociali e non insieme ai ragazzi ma nella tappa di Reggio e di Bologna due tappe significative a cui ho partecipato ho visto le ragazze e ragazze dei 15 anni in su non comprendere non conoscere il linguaggio con cui noi stavamo parlando perché sembrava ministeriale sembrava troppo tecnico quindi anche quello che la stessa regione quello che lo stesso sindacato prova a negoziare a contrattare prova anche a proporre negli incontri nell'assemblea nei momenti secondo me deve avere una parte importante dove i termini le parole i linguaggi devono essere ponderati scelti perché perché dobbiamo trasmettere il messaggio che quello che si sta facendo ad esempio sui tirocini un ragazzo non sapeva neanche l'esistenza cosa vuol dire fare un tirocino e per me a 15-16 anni oggi oltre alla sfida tecnologica oltre agli strumenti tecnologici oltre ai linguaggi che già ci sono digitali c'è la parte secondo me degli strumenti che la regione e non solo mettono in campo ovvero dell'inserimento informativo nel campo del lavoro e non solo ecco spero di averti risposto con queste considerazioni grazie aziz assolutamente il problema in buona parte è linguistico sappiamo che la distanza dei più giovani dal sindacato è in primis comunicativa non valoriale sui valori siamo molto allineati su come comunichiamo ecco lì abbiamo forse qualche difficoltà d'altrò è come facevano come fanno notare i sociologi le generazioni che vengono dopo la nostra io e aziz per dato anagrafico siamo millennial quelle che vengono dopo hanno avuto hanno come dire una nomenclatura che rimanda all'incognita sono la generazione X la generazione Z insomma c'è uno scollamento che ci rende poi difficile andare a comunicare credo che l'intuizione sia proprio questa quella che accennavi tu partire dal linguaggio e allora andiamo a sentire i nostri due giovani più giovani che sono oggi connessi qui forse anche tra i più giovani della tappa del distretto ceramico e mi riferisco a Tari e a Crystal Tari ha fatto come dire una notazione a fine del nostro dialogo con cui siamo confrontati anche con gli enti locali sindacato insomma chi c'era su come coinvolgere i giovani e Tari alla fine ci ha detto ma guardate che i giovani non sono mica così problematici come voi li descrivete non è che hanno tutti delle difficoltà così insormontabili buona parte sono persone anche in pace con se stesse capaci di dare un apporto costruttivo raccontaci un po' come hai vissuto la tappa Tari l'intervento che ero costretto quasi a fare all'intervento a formigine era perché si parlava dei giovani come se dovessero essere seguiti da un punto di vista da tutti i punti di vista e quindi o da uno psicologo o da un sociologo e in questi ambienti scusate in questi ambienti che dovevano che si pensava fossero destinati a loro c'era più la preoccupazione di come ci potessero stare senza gli adulti che dando la libertà tranquillamente in questi ambienti che potevano essere diciamo occupati in modo sereno e quindi lì mi era venuto il pensiero di dire ma ci sono molti giovani che a parte quelli che hanno dei problemi che tutti abbiamo dei problemi però ci sono molti giovani che non ne hanno e soprattutto hanno la forza e l'ambizione di poter potercela fare anche da soli che poi potrebbero essere proprio il primo passo verso quei ragazzi che ci hanno dei problemi e vedere che ci sono coi tanni e altri giovani come loro che fanno le cose senza che ci siano troppi problemi o che gli venga sottolineato che ci sono dei problemi da affrontare e quindi potrebbe essere il primo passo verso un ambiente un pochino più sereno poi come abbiamo detto tutti più o meno fino adesso la cosa fondamentale è il dialogo solo che il dialogo non deve venire solo tra gente non giovane c'è bisogno ascoltare la voce di tutti e da lì creare quello che può essere una proposta delle intenzioni delle attività generali che possono mettere d'accordo tutti senza escludere nessuno comunque noi giovani abbiamo bisogno degli adulti perché come diceva anche Aziz parliamo due linguaggi diversi e quindi per entrare nel mondo degli adulti noi abbiamo bisogno di questo sostegno anche dal punto di vista di quello che è il dialogo e questa potrebbe essere una proposta anche la radio credo che sia un mezzo super efficace perché non ti mette davanti alla barriera del vedersi del sentirsi ti senti quando non sei già più in diretta quindi quella è già una cosa che è già passata ormai è già registrata è andata l'hanno già sentita è buona la prima l'altra proposta è sentire i giovani attraverso i nuovi format il podcast la radio web come può essere questa oppure anche tutto quello che può essere il mondo dei concerti delle rassegne in modo non troppo formale perché comunque è una grossissima barriera quella delle istituzioni di fare le cose super formali quindi dal momento che vedi che c'è l'istituzione e si prepara tutto quello che è l'intervento in modo troppo impegnativo già si crea un blocco per i ragazzi e poi sì i nuovi cassetti che Stefano aveva costruito per l'installazione io li vedo a me da parte mia sono gli hard disk quindi io ho dieci hard disk e sono i miei cassetti perché io dentro ho già messo immagini foto scaricate dal telefono scaricate da internet e di cassetti fisici c'è poca roba e non ci guardo neanche troppo e quindi potrebbe essere anche questa questa puntata finirà in uno dei miei cassetti quasi sicuramente grazie Tari un intervento davvero denso soprattutto io credo sia importante l'intuizione di concepire i giovani come una riserva di risorse della nostra società non come quelli problematici solo che forse non ci capiamo del tutto e poi certamente ci sono mezzi comunicativi più adatti e per cui il virtuale il digitale certamente è non solo il modo credo di conservare i ricordi come diceva Tari ma proprio il modo di pensare anche se stessi quindi c'è un cambio di paradigma anche per l'istituzione anche per il sindacato Cristal tu invece ti occupi di disabilità è così? Sì ciao buongiorno a tutti e intanto grazie Lorenzo per l'invito e sì allora io sono la titolare di We Are Now Agency che è abbreviato WANA che è una start-up che è stata proposta e selezionata dal bando nazionale di imprenditoria femminile di Invitalia e che diciamo si afferma come la prima agenzia pubblicitaria italiana che intende mettere al centro di questa l'uguaglianza umana e il tema della disabilità e infatti diciamo che con questa agenzia il fine di questa agenzia è la rottura degli stereotipi e quindi anche la rottura della ricerca di canoni estetici ideali che sappiamo che non esistono in realtà sì oana diciamo che presenta tutti i servizi di un'agenzia pubblicitaria standard quindi la gestione e valutazione delle campagne pubblicitarie nonché servizi di consulenza e la creazione grafica o audiovisiva però diciamo che vuole proporre ai clienti la possibilità di avere all'interno di questi servizi persone di ogni posizione sociale e o anche disabili in modo che questo diciamo diventi la normalità visto che fino adesso esistono sì magari pubblicità con persone disabili ma fanno parte di pubblicità magari di serie a rotelle o vendita comunque di ausili e quindi sì io mi occupo di questo e sono venuta alla tappa di formigine e secondo me sicuramente per avere delle nuove idee o delle nuove proposte da parte dei giovani come abbiamo detto è necessario ascoltare direttamente loro non magari sapere cioè riuscire a capire quali sono i propri i loro interessi e in questo modo sicuramente si ha modo di sia migliorare che dare vita a nuove idee ascoltando proprio quello che loro hanno da dire grazie cristale io voglio ricordare che il pranzo poi ci è stato offerto nella tappa di formigine proprio dai ragazzi e dalle ragazze di un'organizzazione che si occupa di fare attività produttive con ragazzi con deficit psichico e con ragazzi con disabilità per cui abbiamo visto già nella tappa di formigine proprio una concretizzazione di quello che così bene cristal ci ha raccontato e poi lei insomma impreditrice donna giovanissima certamente di stereotipi ne supera parecchi io però vorrei passare la parola a questo punto a francesco bonetti che è in connessione collegato anche lui con noi francesco lo abbiamo incontrato alla tappa di piacenza non c'è stato modo però di coinvolgerlo nella chiacchierata che abbiamo fatto a seguito della tappa piacentina però abbiamo ritenuto di fare questo recupero perché è così importante parlare anche del progetto di cui francesco si occupa diversi di quindi questa organizzazione dove tu francesco spendi le tue energie il tuo impegno raccontaci ciao a tutti grazie degli inviti intanto mi spiace non essere potuto la scorsa volta si chiama diversity è complicato però si scrive diverci con la y finale ed è molto in linea effettivamente con tutti gli argomenti che sono usciti fino ad ora in questa chiacchierata molto interessante perché è un progetto che essenzialmente si propone di promuovere la cittadinanza attiva in un modo molto semplice ovvero attraverso una piattaforma diversity.com attraverso la quale giovani cittadini adulti chiunque possono proporre delle idee per migliorare la loro città per cui attraverso un semplice form io posso proporre qualcosa che secondo me nella mia città manca e quello che facciamo noi è cercare di aiutarti nel percorso di realizzazione di quell'idea ovviamente a fatto che sia sostenibile sia ambientalmente che economicamente che dal punto di vista sociale e accompagniamo la persona in tutti i passaggi quindi da un iniziale brainstorming fino alla ricerca di risorse umane fondi partner abbiamo più di 30-40 soci sparsi per l'Italia che insomma vogliono aiutare le persone a realizzare progetti concreti per le città e poi anche il lato di comunicazione di cui mi occupo in particolare perché insomma studio in questo ambito il design della comunicazione per cui trovo anche molto interessante quello che dicevamo adesso di Iguana che insomma si occupa di portare la comunicazione anche su diversi livelli che adesso non sono ancora così esplorati quindi molto interessante e insomma mi sento anche di citare un paio di progetti che abbiamo realizzato grazie a delle idee proposte da cittadini e che sono anche molto in linea con quello che diceva anche Aziz del fatto che sia importante ascoltare i giovani e questo lo facciamo assolutamente ma anche far incontrare le generazioni proprio e un modo che abbiamo trovato insomma grazie a un'idea che ci è stata proposta è quella di trovare un tema comune che era la cucina banalmente e abbiamo realizzato questo progetto che si chiama Sapori Senza Tempo in cui persone più anziane insegnavano ricette tradizionali ai giovani e poi imparavano dai giovani come cucinare il poke, il sushi o ricette più moderne e questo incontro di generazione è stato veramente bellissimo con diversi incontri abbiamo incontrato anche esperti e quant'altro del tema e insomma si sta concludendo in questo momento qua con una mostra fotografica tutto a Peccioli in Toscana per cui è proprio bello vedere come effettivamente le generazioni si possano incontrare perché in realtà abbiamo un mood più in comune forse di quello che pensiamo e la tappa di Piacenza e di Jutsi è stata anche anche se molto interessante sicuramente in linea con quello che facciamo noi perché alla fine ascoltare i giovani è un po' quello che ci caratterizza e insomma è stato anche bello confrontarmi con te Lorenzo su tutti i diversi temi in particolare noi avevamo quello della sostenibilità e spero che davvero insomma diventi qualcosa di concreto un po' come nei progetti che realizziamo anche noi perché insomma è quello che tutti ci aspichiamo è quello che ci impegniamo in qualche modo anche al fianco delle istituzioni che ci danno questa possibilità di consultazione davvero come dire un'occasione per farsi sentire anche a livello generazionale poi Francesco forse qualche progetto te lo facciamo arrivare anche noi per la tua piattaforma diversity perché le città io credo saranno davvero il luogo dove i giovani possono far sentire la propria voce sappiamo che siamo in termini demografici abbiamo poco peso però se ci organizziamo e le città sono il luogo giusto dove farlo possiamo incidere in qualche modo anche contribuire a determinare quello che sarà il nostro futuro partendo dal presente come diceva Zisa allora Matteo io sono molto soddisfatto il nostro tempo sta per concludersi e quindi non ci resta che ringraziare i nostri ospiti io ringrazio tutti gli ospiti gli ospiti di oggi ringrazio te Lorenzo veramente una puntata molto bella molto interessante bellissima l'idea della mostra dei cassetti ed è anche molto interessante quello che ha detto Francesco per quanto riguarda la ricetta senza tempo e insomma è tutto è stato veramente tutto molto bello peccato che il tempo purtroppo è scaduto ci sentiamo e ci vediamo alla prossima vi ricordo i podcast su Spotify e su YouTube grazie a tutti grazie a voi grazie grazie ciao grazie a voi grazie a tutti